Ciao a tutti ragazzi, guardate come sono ridotto male perché mi sono dimentico di fare l'intro Devo lavorare al computer per fare dei video e montarli, è veramente tardissimo Ah, proprio tremendo, poi mi piace fatica un po' a montare quindi sono anche col telefono qua Ma comunque, lasciando stare questa cosa qua, vi volevo dire che il video che siete per vedere È un video che abbiamo fatto l'ultimo dell'anno sulla pista più lunga d'Europa Con i patti da freestyle, scusatemi Devo dire che sono veramente fenomenali Mi sono davvero notato, l'unico difetto è che le lame si allentano Poi risolverò io mettendo il fina filetti, però ecco, l'unico veramente difetto di questi partner è che la lama si allenta Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate mi piace Seguitemi sui social, su Facebook, su Instagram, ma di soliti E vi lascio il video, 3, 2, 1, parto il video Grazie, vogliamo una pista più lunga d'Europa Anche un po' più stretta, è veramente difficile passare in questa pista Fatti guardare la telecamera, non schiantarti, è già un miracolo Stiamo ancora testando i patti freestyle E che dite, vi porto a fare un giretto di questa pista che è 300 metri A Firenze, gira intorno alla fortezza Purtroppo è notte, quindi non so come si vede Vedo questo, incontriamo una faccia un po' veloce Facciamo un po' di trick in questa pista Grazie 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 Spero vi sia grazie a questo video Non so se l'audio si sente Perché comunque sia Non è che sono attrezzato Non è che un po' così Non abbiamo da fare Boom, avevo fatti dietro Seconda volta con questi fatti da freestyle sul viaggio Sarà l'abitudine Sarà che comunque sia È un po' diverso E non è uguale ai roller È un elamore molto interessante Ha un potenziale veramente alto Però da imparare a usarla bella A capire i limiti A capire dove può O dove non può arrivare Perché rispetto ai fatti walk Questo ramo qui ha Delle criticità in più Secondo me Qua non è affilata Per l'amor di Dio Non voglio mettere Non voglio dire Che sono solo i passi Io magari sono impedito Quindi Potrebbe essere anche questo Un'altra cosa Positivo Comunque spero Questo video Pappone Un po' fatto così Alla veloce Vi sia garbato Se iscrivetevi Mette mi piace Cliccate sulla campanellina Per stare aggiornati Sui miei video E io vi saluto Dalla fista più lunga d'Europa Ciao ragazzi